e se vi dicessi che ho trovato il mio tabacco dell'autunno che mi direste beh sì ragazzi che vi posso dire ho fatto una spesuccia ma ne fa veramente la pena black parrot della robert mcconnell non so adesso proprio non mi ricordo ma precedentemente era prodotto da un'altra casa produttrice costo di 36 50 ma la latta come vedete è da 100 grammi 100 grammi perciò immaginate di trovarvi davanti una latta di 50 grammi la paghereste 18 euro e 25 per gli standard italiani non è troppissimo soprattutto per un tabacco di qualità allora scusate ma è veramente buono devo fare una tirata allora dicevamo io cercavo un soddisfacente virginia pericche di base o pericche che dir si voglia quello che gli americani insomma chiamano vapor appunto virginia pericche e niente e mi sono imbattuto in questo da tempo l'ho adocchiato l'ho comprato appena ho potuto ne è valsa la pena e sono veramente soddisfatto cosa vi posso dire è un una miscela base di virginia carolina e pericche qua dice proprio della luisiana perciò gli ingredienti sono sicuramente di qualità la latta viene aperta potete sentire un profumo veramente buono soddisfacente accattivante di fruttato misto ad una nota non saprei dire quasi acetata però non è l'acetato che nel san bruno non mi aveva fatto impazzire poi comunque il tabacco mi era piaciuto questo è un qualcosa di sottofondo che mi ricorda un po non so se voi ogni tanto mangiate quelli insalate miste dove c'è anche uvetta frutta secca melopera tagliuzza molte volte no spesso mi questi mix di verdura frutta e mi dà quell'impressione ma ho detto così sembra invece è un odore veramente buono veramente buono veramente buono il taglio è quel rock and click vedete ed è un tabacco che brucia veramente 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 piano tanto che io vi consiglio due cose non riempite eccessivamente fino all'oro la pipa e soprattutto non premete tanto il tabacco fatto che magari cioè io io personalmente mi sono ritrovato un po meglio con un caricamento maggiormente lasco perché altrimenti era più facile che si venisse a formare uno strato di fondiglio alla fine sinceramente l'ho preferito nelle pipe piccole anche se su internet c'era gente che diceva no assolutamente è meglio usare pipe grosse immagino che sia una cosa che dipende dal gusto ecco come è infumata tuttate me lo riaccendo perché buonissimo questo fruttato che vi ritrovavate al all'annuciamento a crudo di fatto si ripropone anche in infumata quindi avete una bella dolcezza fruttata con una punta acidula acetata e poi questo pedic che all'inizio quando accendete è molto sfumato si sente qualcosa e poi diventa però man mano più forte anche da questo punto di vista della complessità non è proprio un tabacco banale non sottovalutate comunque la sua forza perché è un pelino sopra il livello medio all'inizio non sembra però poi la nicotina c'è diciamo abbastanza soddisfacente però guardate io non ho avuto mai nessun problema è un tabacco che brucia molto facilmente brucia bene veramente perfumate rilassate lunghe quando sapete insomma di potervi prendere il vostro tempo però a mio avviso è un tabacco che è adatto più ai fumatori che ai degustatori cioè se volete farvi semplicemente una buona fumata una buona fumata allora black parrot assolutamente ragazzi cioè è veramente buono 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 poi sposa particolarmente i miei gusti perché a me piacciono per le fumate così dei tabacchi che siano genuini con ottimi ingredienti magari non super complessi ma che diano una piacevole esperienza di fumo e questo tabacco una piacevole esperienza di fumo ci sta poco ci sta veramente poco da dire che dire pure pure la confezione molto carina questa questa latta così che dà l'idea di barilotto un po' antico insomma mi piace in definitiva mi piace e quindi niente nota negativa l'unica che se non andate particolarmente pazzi per questo tipo di miscene beh sono 100 grammi e la spesa è di 36,50 non esiste la latta da 50 grammi però ragazzi sono 100 grammi per l'appunto 36,50 ripeto se consideriamo gli standard dei tabacchi di qualità in Italia non è così tanto quindi consigliatissimo mi raccomando ci risentiremo ciao ragazzi grazie a tutti